E' stato l'ideale della mia vita fin da quando ero piccolo, a nove anni, all'oratorio del mio paese, quando ogni sera il direttore dei Salesiani raccontava un episodio della vita di Don Bosco per dare la buonanotte. Beh, se devo essere sincera, per un'altra volta che l'ho visto ero alle scuole medie e abbiamo fatto un ritiro all'Emmaus. Però io a Don Bosco non sapevo che fosse Don Bosco, però mi ricordo che c'era questo enorme quadro che mi guardava dovunque mi spostavo. Dopo anni ho scoperto che ero a Don Bosco e dal giorno in cui ho conosciuto la sua vita e la sua biografia è diventato mio padre. Per me Don Bosco è il papà che mi ha preso dalla strada e mi ha portato all'abitenza. Dalla strada. E ora? E ora mi continua il suo sogno con me attraverso la sua chiamata per portare Dio ai giochi. Ciao. Ciao. La cosa più bella che c'è. Don Bosco è la passione che mi ha guidata a fare questa scelta di vita, il suo carisma, il suo amore per i giovani. E' stato un compagno di viaggio, un amico, un fratello. E' stato una parte che ha completato la mia vita. Dopo mia moglie naturalmente che è qua, il mio primo figlio Giovanni, il secondo figlio Gioele e il terzo figlio Matteo. E' stato un figlio. E' il modello, il maestro del paure E' la guida per poter vivere con uno stile speciale Ha capito cosa bisognava fare nel suo tempo Quello che non abbiamo capito forse ancora noi Nella nostra contemporaneità Come rispondere seriamente ai bisogni dei giovani Lo ha fatto certamente con i doni della grazia Lo ha fatto con le sue grandi capacità La sua intelligenza e la sua anche capacità organizzativa Tutto dopo Gesù Cristo ovviamente E cioè San Bosco è il modello che ho seguito per la mia vita E che adesso so seguendo totalmente Perché fra poco diventerò diacono Quindi pregate per me Grazie Bosco è il genio di Dio che si fa dono per i giovani del mondo E sono orgogliosa di essere figlia di Maria Ausiliatrice Di averlo incontrato fin dai primi anni della mia vita Avevo quattro anni quando la mia mamma mi ha portato alla scuola materna Delle figlie di Maria Ausiliatrice E io non ci volevo andare Don Bosco è tutto il mio papà Se ne fare siano per me è una grande gioia E oggi essere qui è davvero molto emozionante E vedere soprattutto questa fonda di giovani Vuol dire che Don Bosco è ancora vivo e qui in mezzo a noi Ci vuole bene, ci ama E vuole che cresciamo ogni giorno di più Un modello di vita Un grande Un riferimento Che è possibile trasformare la nostra Sicilia La nostra Italia La Europa e il mondo Se riusciamo a vendere i giovani Al centro E la nostra vita E la tua santità Saremo in me E qui che mi ha dato lo stile per vivere la mia vita La speranza Il positivo La ricerca del positivo E il volto gioioso che ha per tutti Gioia Ottimismo Felicità L'allegria Per me è tutto E' la mia missione nella vita Devo a lui quello che sono Per me è un frattempo Papà Papà da amare Papà da ascoltare E' colui che mi dice che attraverso il servizio posso arrivare a Dio E io ho trovato questa via E lui mi ha indicato questa via Mi è piaciuta sinceramente E consiglio agli altri ragazzi di dare una parola Una persona da seguire Un punto stabile nella mia vita Ecco Dove magari i momenti più tristi Ha avuto con me Il suo sorriso Il suo sorriso Il suo amore Anche il suo essere Ecco Per me è un papà Un padre Don Bosco E' l'amico fin dalla mia giovinezza E' stato un grande sogno Un grande Il suo sogno è diventato il mio sogno Don Bosco Io l'ho conosciuto prestissimo I miei fratelli andavano in oratorio Ma io non potevo andare Perché era solo per riservare i maschietti E io leggendo la sua vita Attraverso i libri che arrivavano dall'oratorio Pensavo Che cosa immensa Che aveva saputo fare questo sacerdote E poi ho imparato a conoscerlo Nell'oratorio delle figlie di Maria Ossiliatrice E lì ho capito che Il suo sogno era il mio sogno E oggi Don Bosco per me è il padre E' il padre che mi ha lasciato in dono Un carisma che io vivo dentro la chiesa E per il quale sono grata Perché è un carisma bellissimo Io penso che lo Spirito Santo Abbia fatto un grande dono alla chiesa E a me Che mi ha voluto anche Protagonista di questo sogno meraviglioso La giovanza di più chiama La saluce di suon'amore Al mondo in te lo porterà La giovanza di più chiama Per donarti la speranza